La Tizia è la prossima concorrente, conosciamola! Ciao, da dove vieni? Ciao, vengo da Udine. Che viaggio vorresti fare nella tua vita? Vorrei andare in Spagna perché studiando lingue a scuola vorrei continuare a conoscere meglio questa lingua. Che cosa vorresti fare dopo le scuole superiori? Vorrei iscrivermi alla facoltà di fisioterapia perché giocando a pallavolo è una facoltà che mi interessa molto. In che squadra giochi? Gioca Trieste in serie B2 nella Libertas. Vuoi farci un saluto? Ciao a tutti!